che succede ragazzi wow che macchina fantastica dove hai trovato improvvisamente così tanti soldi lisa non l'hai saputo ho vinto alla lotteria ho vinto alla lotteria sei stata fortunata fortuna non ha nulla a che fare con la fortuna è stato un lavoro duro come vuoi tu entriamo le lezioni stanno per iniziare no oggi non vado a scuola non ne ho voglia cosa vuoi fare allora sto trascorrendo una giornata fantastica sto trascorrendo una giornata fantastica divertitevi con le vostre noiose lezioni ehi non sei la ragazza che ha vinto alla lotteria si sono io wow cosa vorresti prende una confezione del vostro gelato più costoso mi dispiace ma non abbiamo gelato dammi il mio gelato altrimenti compro il negozio e ti sbatto fuori altrimenti compro il negozio e ti sbatto fuori sì salve sono lisa petrucci ciao lisa sono lara vuoi fare qualcosa insieme oggi non ci vediamo da tanto tempo mi dispiace Lara ma ora passo il tempo solo con persone ricche ma ora passo il tempo solo con persone ricche ok che peccato lisa posso avere altri 20.000 euro certo papà ecco i soldi grazie che cosa farai oggi vado a fare shopping con Sara vado a fare shopping con Sara anche lei è ricca lei mi capisce cosa ti piace Lisa voglio comprare cose nuove ok conosco un buon negozio come posso aiutarvi vorrei comprare il suo vestito più costoso vorrei comprare il suo vestito più costoso ho proprio quello che fa per te cosa ne pensi Sara mi piace come outfit ma quanto costa il prezzo non è importante l'intero outfit costa 5000 euro vedi solo 5000 euro un affare penso che sia troppo costoso non me lo sarei aspettato da te non me lo sarei aspettato da te in che senso sei gelosa di me cosa perché dovrei essere gelosa perché sono più ricca di te ti comporti in modo strano ora me ne vado lo compro ottima scelta Lisa mi servono altri 10.000 euro a cosa ti serve il denaro non mi piace il colore della barca non mi piace il colore della barca vorrei riverniciarla ok vado a prendere i soldi oh no non ci sono abbastanza soldi abbiamo già speso quasi tutto Lisa ho bisogno di soldi per dei nuovi occhiali da sole voglio delle scarpe nuove voglio comprare un nuovo cellulare mi dispiace ma non abbiamo più soldi mi dispiace ma non abbiamo più soldi in che senso i soldi sono finiti ma come facciamo ora a pagare l'affitto e le auto non lo so oh no dobbiamo tornare nel nostro vecchio appartamento qualche giorno dopo tutto è tornato come prima non avremmo dovuto spendere i soldi così in fretta non è stato intelligente sì hai ragione ora non siamo più ricchi spero che Sara mi perdoni mi sono comportata in modo davvero stupido mi sono comportata in modo davvero stupido scusati con lei lei capirà ehi Sara devo scusarmi con te oh davvero pensavo di essere gelosa di te non volevo dire nulla di tutto ciò cosa c'è che non va Lisa dove sono i vestiti costosi ho dovuto restituirli ho sperperato tutti i soldi sono ancora arrabbiata con te non voglio parlarti forse Lara mi darà un'altra possibilità ciao Lara che ci fai qui Lisa ti devo delle scuse davvero? pensavo che parlassi solo con i ricchi non volevo dire quelle cose mi dispiace lasciami in pace Lisa lasciami in pace Lisa tutti sono arrabbiati con me mi sono comportata male ora lo so deve essere qui da qualche parte l'ho perso da qualche parte devo trovarlo cosa ci fa quell'uomo lì? sta cercando qualcosa salve posso aiutarla in qualche modo? sto cercando un biglietto della lotteria l'ho perso qui qualche giorno fa l'ho perso qui qualche giorno fa oh no è proprio qui che ho trovato il biglietto è possibile che l'abbia perso? il biglietto era vincente non lo troverò mai è così quindi quello era il suo biglietto l'ho preso io ma ho speso tutti i soldi non posso essere onesta con lui mia madre è malata ho bisogno dei soldi per aiutarla devo dirglielo non troverai il biglietto qui come fai a saperlo? perché io ho trovato il suo biglietto perché io ho trovato il suo biglietto ma l'ho già riscattato e ho speso tutti i soldi quindi hai rubato i miei soldi e li hai spesi? pagherai per questo per favore non mi faccia del male per favore non mi faccia del male dove vivi? vicino alla torre pendente di Pisa e come ti chiami? mi chiamo Lisa Petrucci va bene Lisa ti concedo tre giorni tra tre giorni ci incontreremo proprio qui tra tre giorni ci incontreremo proprio qui o mi porterai i miei soldi o ci saranno problemi? chi vuole un nuovo cellulare? a. Lisa b. Samuele c. Maria scrivi un commento grazie a tutti